Chiuse le indagini sulla tragica morte del piccolo Luigi di Montesano sulla Marcellana. I genitori sono accusati di omicidio colposo, per gli inquirenti sono loro gli unici responsabili del drammatico episodio che gli ha portato via l'unico figlio. Tocca ora al giudice per le udienze preliminari stabilire se ci sono i presupposti per rinviarli a giudizio e quindi mandargli a processo oppure se archiviare il caso. Secondo la relazione del perito della procura di Lago Negro la tragedia si sarebbe verificata perché il bambino e insieme alla mamma era a bordo del carrello su cui c'erano due cisterne, una piena d'acqua ed un'altra vuota. Una condizione secondo il perito che potrebbe essere alla base del decesso del piccolo. Per provare a smontare questa tesi l'avvocato dei genitori ha chiesto ad un perito di analizzare il carrello e le cisterne. Tutto è accaduto nel settembre scorso, la famiglia era in un terreno di sua proprietà a Montesano sulla Marcellana probabilmente per innaffiare delle piante. Pare che il piccolo era sul carrello con le due cisterne e che con lui ci fosse anche la mamma. Improvvisamente il carrello si piegò ed una delle cisterne del peso di circa 10 quintali investì il bimbo di tre anni che morì sul colpo sotto gli occhi dei genitori che oggi rischiano di essere processati per la drammatica scomparsa del loro piccolo.